Furto con scasso nella notte scorsa al tiravolo di Monte Schiantello. Tre o forse quattro persone si sono introdotte nei locali dell'associazione, forzando una vetrata nella zona bar con un tombino in cemento. Da lì i ladri hanno razziato e rovistato in ogni angolo della struttura e messo a suo quadro uffici e bar. Purtroppo danni, danni effettivi perché il valore della merce rubata è irrisorio, solo che hanno fatto un'esagerazione di danni. Sono partiti dall'inizio del campo fino a arrivare in fondo e dove hanno potuto devastare hanno devastato. Voi grosse somme di denaro non le tenete? No, noi non teniamo somme di denaro perché dalla sera facciamo sempre le chiusure casse e tutti i giorni portiamo via soldi. A scoprire la scorribanda dei ladri i custodi della struttura che di prima mattina hanno avvisato soci e presidente di quanto era accaduto. Il raid ha fruttato poco meno di 1.500 euro ma i danni causati alla struttura ammontano a oltre 15.000. Anche nell'armeria hanno usato il tombino per le acque di scolo per scardinare il cancello in ferro e la porta tagliafuoco ed una volta all'interno si sono diretti dritti in ufficio e nel deposito munizioni dove era custodita la piccola cassa portatile con i soldi della vendita giornaliera delle munizioli a disposizione dei tiratori soci dell'associazione. Anche qui danni ingenti alle strutture. Ogni angolo di questo posto è stato visitato dai ladri compresi i piazzole di tiro e i gabbiotti alla ricerca di chissà quale tesoro. Il tiro a volo di Fano per le sue caratteristiche è una struttura di primissimo piano a livello nazionale. Qui si sono allenati i campioni olimpionici e i nostri azzurri e questo brutto episodio non ferma certo l'attività agonistica. Oggi abbiamo tenuto chiuso perché dobbiamo sistemare però credo che da venerdì che sarà l'altro giorno di apertura saremo pronti per poter ripartire. Ora su quanto accaduto indagano i carabinieri della stazione di Marotta.